Buongiorno a tutti, aggiornamento agrometeo. La settimana scorsa abbiamo avuto per l'ennesima volta l'idea che le prisioni meteo non sempre sono così affidabili. Prevedevamo piogge abbastanza importanti sull'weekend, temporali, da 10 e 30 mm, in realtà ne abbiamo avuti zero. È piovuto molto verso la zona del Lecchese, del Comasco, ma qui in provincia di Brescia praticamente non ha piovuto. E quindi noi, in previsione di queste, eravamo tornati in copertura, ma di fatto l'abbiamo fatto per nulla perché poi non ha piovuto. Siamo in una condizione di temperature elevate, molto elevate, abbiamo massime sopra i 35 gradi, minime di 25 gradi, quindi siamo in un periodo pieno estivo di quelli classici. Abbiamo ancora 24-48 ore di bel tempo, poi da domenica è previsto l'ingresso di aria fredda con possibili temporali. Vediamo se farà la stessa cosa la settimana scorsa, la settimana scorsa poi non ha piovuto, cercheremo di scoprirlo. Per l'agrometeo direi che non abbiamo altre grandi novità, tra poco vediamo poi invece i vari aggiornamenti fitopatologici. Buon lavoro a tutti!